La marineria pescarese, una delle ultime a restare a terra in queste ultime ore, dalla prossima settimana tornerà in mare, seppur solo inizialmente per alcuni giorni. Dopo ore di riflessione si è deciso così di interrompere il lungo sciopero per il caro gasolio. I problemi, come spiega Fabrizio Verzulli, presidente dell'Associazione Il Maestrale, restano però tutti sul tavolo e tutti irrisolti. I problemi restano ancora sul tavolo, per me sono ancora aumentati i problemi, perché due volte che buttiamo la spugna, qua torniamo di nuovo in mare, con i prezzi di gasolio che sono tornati a salire ancora di più, non so dove andremo a finire comunque. Non c'era unità di vedute nei giorni scorsi sul fatto di riuscire in mare? C'è chi era d'accordo e chi contrario? Sì, infatti, non c'è unità, chi vuole uscire, chi vuole restare a terra e continuare lo sciopero, però queste sono tutte piccole aziende, giustamente ognuno di loro ha le loro problematiche. Il costo del gasolio non solo resta, è aumentato, quindi signori, qua se torniamo di nuovo in mare stiamo facendo uno sbaglio enorme, perché facciamo capire a tutti che praticamente il problema non è mai esistito. Abbiamo fatto lo sciopero per niente, abbiamo perso solo tempo andando girando l'Italia a bloccare barche e facendo sì che aderivano insieme a noi a tutto lo sciopero. Il presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, Francesco Scordella, rilancia ancora una volta l'idea del fermo biologico anticipato per una categoria sempre più in ginocchio. Noi ci siamo comportati degnamente tutti quanti, quindi non abbiamo fatto ostruzionismo in città e abbiamo, come si dice, rotto le scatole a qualcuno che andava a lavorare per bloccare, come si fa di solito quando c'era manifestazione. Il rammarico mio è che le istituzioni purtroppo non ci hanno dato una risposta tuttora, fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, veniamo da una pandemia, è una situazione talmente drammatica. Io capisco che tutte le aziende stanno col fiato sospeso perché sono fatto del ringare energetico, ma noi viviamo di quello, il gasolio per noi è come il sangue per un essere umano. A queste condizioni qua veramente non sappiamo più cosa fare, non abbiamo le risposte. Col senatore D'Alfonso oggi c'è una riunione in videoconferenza con le altre cariche dello Stato, quindi si è adoperato per far fronte a questa situazione. Speriamo che io oggi chiedevo a gran voce, visto che stiamo fermi in questo modo senza fare niente, vi faccio scontare un fermo biologico, che secondo me era una soluzione, non era la migliore, però invece di stare fermi in questa situazione così, senza avere niente, scontavamo questo fermo biologico e poi fra i 50 giorni, capaci che le cose potevano cambiare, il governo aveva il tempo per fare tutto quello che doveva fare i provvedimenti, ma se stiamo fermi così e fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico e altri 50 giorni, queste sono aziende che non si rialzeranno più. Avremo importazione estera e quindi stiamo favoreggiando il mercato estero e questa è la risposta che stiamo aspettando da questo governo, ma ho poca fiducia perché veramente è brutto dirlo, ma ci hanno preso in giro perché è troppo tempo senza risposta.